segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te marco al vera la preoccupano queste fibrillazioni all'interno del governo di draghi visto che il nostro paese deve affrontare una serie di emergenze a cominciare da quella dell'approvvigionamento energetico ricordavo prima che draghi domani farà questo ci sarà questo consiglio dei ministri per evitare per placare il rincaro delle bollette energetiche a cominciare da quella del gas non non mi occupo di politica mi sembra come come ha detto caraccio la maggioranza c'è io vedo che questo governo è molto attivo sul fronte energetico sia in italia che all'estero in europa il governo e draghi in particolare oggi hanno un peso relativo e assoluto che che non abbiamo quasi mai avuto quindi io vedo che l'energia sarà la base di un modo nuovo di intendere anche l'europa perché l'europa deve ricoalizzarsi attorno un nuovo modo di pensare all'energia l'europa è nata come club di acquisto comune di carbone e di acciaio per l'industria d'acciaio nel 50 l'europa adesso deve in qualche modo rifondarsi attorno alla nuova dimensione energetica e presidente draghi sta giocando un ruolo di primissimo livello di fronte a un macron più debole una germania che ha dei problemi secondo me più gravi dei nostri ecco ma dottore al vera siccome lei nonostante la giovane età ha lavorato in ene eleni è stato amministratore delegato di snam insomma lei i temi dell'energia li conosce molto molto bene allora oggi pomeriggio il capo di eni descalzi ha detto a londra una tavola rotonda di chatham house che ci potrebbe essere uno stop delle forniture del gas russo all'europa e quindi anche all'italia in tempi molto molto brevi molto rapidi anche già nei prossimi mesi e quindi cosa facciamo noi siamo siamo in grande difficoltà noi in italia allora claudio descalzi ha detto giustamente secondo me che l'europa deve il più velocemente possibile diversificare le fonti che vuol dire non solo prendere il gas da altre fonti ma aggiungo io anche importare energie rinnovabili che oggi sono comunque ci vuole un po di tempo per riorganizzarsi come abbiamo visto in questi mesi sta muovendo molto molto bene molto velocemente ma ci vuole del tempo io faccio fatica a pensare che semplicemente i russi interrompano le forniture perché i contratti sono take or pay ci sono anche delle percussioni legali importanti vedo invece una russia molto capace ed efficace nel sfruttare qualsiasi pretesto per interromperle o per creare incertezza sul mercato l'incertezza tira sui prezzi i prezzi fanno guadagnare grandi risorse alla russia sicuramente ogni giorno in cui il gas russo continua a scorrere è un giorno prezioso l'europa ha davanti due anni difficili dopodiché prezioso per per noi che siamo diciamo sottoterra nello stoccaggio sostanzialmente oggi gli stoccaggi sono pieni attorno al 58 per cento abbiamo un obiettivo ambizioso di riempirlo in italia 90 per cento ogni giorno ci arriveremo secondo lei se il gas continua a scorrere ci possiamo arrivare se il gas non scorre più per motivi o tecnici o presunti tali o per o per decisioni addirittura azzardate non ci arriveremo e i problemi saranno ancora più gravi ma da 1 a 10 quanto è alto il rischio che i russi fermino la l'approvvigionamento energetico anche al nostro paese putin è un grandissimo esperto di gas putin conosce la mappa dei gas dotti a memoria ha fatto delle battaglie storiche negli ultimi vent'anni per costruire il blu stream il green il nord stream il south stream che voleva fare e conosce bene il danno reputazionale irreversibile che riceverebbe il gas se dovesse interromperlo in modo unilaterale quindi saranno delle cose come abbiamo visto con la finlandia come abbiamo visto con la discussione sul rublo come abbiamo visto il pretesto tecnico del nord stream per la germania quindi è difficile mettere un numero quello che senz'altro va fatto è diversificare più possibile da questo punto di vista l'italia è messa meglio di quasi tutti gli altri paesi europei perché abbiamo il tap che da solo porta quasi un terzo di quello che è il gas russo che può essere raddoppiato esteso abbiamo il gasdotto con l'algeria abbiamo il gasdotto con la libia abbiamo una nuova nave rigassificatore che si sta approvvigionando abbiamo dei rigassificatori abbiamo lo stoccaggio quindi l'italia è uno dei paesi messi meglio quindi a me più che la situazione italiana preoccupa enormemente la situazione europea perché l'europa può sfaldarsi di fronte a una crisi del gas abbiamo visto quando c'è stata la crisi della migrazione schengen è scomparso in pochi minuti e se chiudiamo le frontiere del gas che è un mercato europeo può essere l'inizio di un'enorme tensione che non abbiamo mai visto negli ultimi anni nelle ultime decadi in europa una tensione davvero l'uso garaccio sono anche i tuoi timori